benvenuti in un nuovo episodio di espresso podcast napoli città di misteri sì partiamo dai misteri ok questo misteri ripeto a me affascino tantissimo leggende e miti metropolitani lei che professore praticamente della storia di napoli ecco l'abbiamo chiamata soprattutto per questo leggende e miti vai ciac buona come qual è il mito la leggenda che le piace di più di questo certo aspetta un attimo a freddo dunque preliminari un po di preliminari dai sì ah proprio un piccolo vai vai però cominciamo un po magari ci arriviamo professore scrittore attore teatrale e chi più ne ha più ne metta quindi sì allora guarda è difficile presentarmi io stesso non saprei presentarmi in questi casi ho imparato che quando uno non sa cosa dire basta dire così a media corella che non ha bisogno di presentazioni che è facile insomma no in realtà sì tutti tutti questi attributi mi sono 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 sopraggiunti tutti a sorpresa nella mia vita io per 23 anni ho già fatto ricercatore senior in un centro di ricerca della federico secondo si chiamava il criai di porti giù al granatello un posto bellissimo poi improvvisamente e per me la napoletanità era solo una passione lo studio dell'arte la storia la cultura leggevo di tutto però in maniera sistematica perché poi la deformazione da ricercatore la sistemazione dei dati oggi dispongo di un archivio perché potremmo parlare di qualunque cosa lei è una biblioteca umana quello lì che c'è in testa ma l'archivio poi sul mio computer ormai c'è un archivio su ogni cosa e poi improvvisamente decisi di lasciare perché ebbi un successo enorme con un libro che si chiamava manuale di napoletanità tutto ciò che devi sapere per essere un buon napoletano 365 lezioni e il libro ebbe successo pensai ma vorrei che avessi scritto ora ma chiaramente è complicato vivere di questo però era un sogno soprattutto il mio sogno era avere una piccola casa editrice la chiamai cultura nuova la fondai nel 2014 dieci anni fa e prima come associazione culturale poi invece che avevo strutturato avere la casa editrice teniamo 20 titoli insomma in catalogo non è una grande casa editrice però il mio sogno diciamo è semirealizzato diventare scrittore ed editore poi la cosa invece del tutto imprevista andavo presentavo un libro tipo situazioni tipo queste no a proposito dovevo portare il libro sbagliato vediamo come risolvere mettiamo una foto presentavo il libro e di solito nelle presentazioni sai la gente se ci fa serie lo propoga dove le commenta fui invece nel mio caso vedivo che la gente rimaneva volentieri ad ascoltarmi pensai vorrei che ho qualche dote di comunicazione chiamai un chitarrista e ne venne fuori uno spettacolo questo spettacolo lo portai a teatro e quando io dieci anni fa dicevo mi piacerebbe divertire raccontando la lingua la storia l'arte la cultura la gastronomia tutti mi dicevano ma quando ma gente vuoi cabaret in barzellette invece si ci provo e alla fine forse ci sono riuscito ma forse poi bisogna vedere perché in questo momento sono travolto da una popolarità per me inconsueta piacevolissima mi diverto mi ciaceo a essere riconosciuto da tutti la gente per strada se fanno il fotografio molti addirittura fanno i video i casi più estremi mio nonno compie gli anni eh sì ciao nonno ormai faccio di tutto però è chiaro se l'avessi fatto da 40 anni oggi sarei stanco avendo io cominciato un annetto fa e poi sono consapevole che la popolarità è una cosa che questa società moderna brucia in un attimo quindi può assurdo che fra due settimane nessuno più mi riconoscerà con questa consapevolezza mi diverto e sta andando tutto bene vabbè diciamo che ha realizzato un pochino quel desiderio che aveva di vivere di napoletanità e del professare la napoletanità sì e soprattutto provare a vivere poi di cultura perché in questo momento cioè è chiaro che nel progetto iniziare non c'erano gli spettacoli e quindi non c'era questo aspetto che invece poi è stata la parte più più divertente ma tutto questo secondo me poteva venire solamente a Napoli nel senso che Napoli alla fine è una città che io la definisco sempre così Napoli è una città diversamente normale nel senso che il concetto di normalità che noi percepiamo è un concetto un po' diverso da quello che altrove è considerato normale e questo molto spesso in senso positivo talvolta anche in senso estremamente negativo guarda faccio degli esempi per carità Napoli ah ecco la città talmente anormale che il più antico ospedale napoletano ancora in funzionamento sa come si chiama? incurabili ma ti pare un nome da dare a un ospedale si ania una battuta su questo incurabili chi si ricoverà oppure per esempio è una città che c'è un santo protettore principale al quale i napoletani rivolgono improperi nel caso in cui il miracolo tarda ad avvenire è una città nella quale che ne so San Gennaro mica protegge Napoli a chiacchiere cioè per tradizioni storiche San Gennaro ha stipulato proprio un atto un atto notarile un strumento c'è un atto scritto che oggi è esposto al museo del tesoro di San Gennaro nel 1512 fu un anno di epidemie, pestilenze tutte le bibliche calamità calavano su Napoli e allora i napoletani decisero di rivolgersi di affidarsi alla protezione del santo protettore in che modo? però non a chiacchiere, se no a chiacchiere sono buoni tutti disse alle napoletane, facciamo un atto scritto più o meno l'atto dice così San Gennaro, se tu ci liberi da colere, epidemie, pestilenze, maremoti, terremoti, eruzione del Vesuvio noi ti costruiamo la più bella e grande cappella che si sia mai vista sulla terra in effetti io ho sottoposto quest'atto tu dirai, da un lato firmano i fedeli, la deputazione di San Gennaro ma dall'altro lato San Gennaro come ha fatto come firma esatto, ti sono spiegato è una città diversamente normale in realtà sottoposto a un amico notaio quest'atto in realtà ha detto ha un senso enorme è uno di quei tipici contratti per adesione ora sto proprio andando con Nabulegno cioè, è come quando la compagnia dell'Enel viene, la compagnia dell'elettricità viene da dire io ti do questo, questo se tu di fatto, come devo dire realizzi poi la fornitura di fatto hai accettato quindi se la grazia è arrivata e c'è stata la cappella è stata costruita la cappella del tesoro di San Gennaro è una delle più grandi meraviglie artistiche che esiste non solo a Napoli ma in tutta Italia e forse in tutta Europa quindi adesso questo contratto ha senso è legale voglio dire, è una città tutta particolare è una città guarda, ora gli fa una battuta per carità non sa, da pigliavo il sindaco Manfredi però Manfredi in tutti i giornali qualche giorno fa voi sapete sappiamo tutti, no? Napoli quante linee metropolitane ha? ce n'ha due linea 1? linea 1 e linea 2 ok l'altro ieri su tutti i giornali campeggiava che a fine aprile verrà inaugurata la nuova linea metropolitana di la città di Napoli la linea 6 e le altre le altre che fin hanno fatto la domanda sono già spontanea a 3, a 4 e a 5 che fin hanno fatto le altre 3 dove sono? e ti sto spiegando è una città diversamente normale ma tu vuoi una spiegazione normale no, la spiegazione è che in realtà altre linee umane vengono considerate periferiche sono state rinumerate però la cosa divertente è che si fa 1, 2, 6 un po' come le magliette di calciatore no, ognuno mette un numero con voi ecco, questa è una città talmente strana che è stata fondata due volte prima chiamavano Partenope 2700 anni fa i greci poi le cose non andavano bene la rifondarono da un'altra parte e la chiamavano città nuova Neolis Napoli insomma, voglio dire quindi già questo c'è un santo protettore principale San Gennaro che si occupa del Vesuvio adesso si sta occupando pure dei campi filagrevi perché le cose non vanno buone da quelle parti però i problemi in Napoli sono assai oggettivamente Napoli non è una città in cui un santo protettore può bastare è quello che ha fatto San Gennaro esiste il santo protettore dei San Pietrini quando piove e del traffico e del della viabilità eh, della viabilità ci devo pensare delle strade che se ne crollano a pezzi perché sono pruse ne abbiamo 52 cioè Napoli perché San Gennaro nel corso dei millenni che ha fatto e io gli impara di si ha chiesto aiuto agli altri santi ha detto e questo lo sappiamo per certo se già pensò Vesuvio mi ti aiuta allora lui ha delegato una serie di funzioni che ne so a Napoli abbiamo Santa Spreno che si occupa solo dell'emicrania Santa Lucia per l'occhi San Biagio per le malattie del collo, orecchio, naso e gola Sant'Emidio per i terremoti Sant'Erene per i fulmini ha delegato intelligentemente no Santa Candida per le malattie corporali San Gaetano si occupa di epidemie e pestilenze e mo San Gaetano gli ultimi tre anni ha lavorato assai ha lavorato assai San Gaetano te ne scollo in fronte in questo momento ora sei in vacanza per un po' di tempo San Gaetano a San Raffaele a San Raffaele si rivolgono le single napoletane una volta avrei detto Zitella ma oggi non è più epoca di dire un nome politicamente corretto le single napoletane si recano si recano ma io sono stato nel 2023 c'erano ancora tante donne che vanno lì alla ricerca di marito sì perché ripetendo una pratica che dura da secoli che è quella di baciare il pesce di San Raffaele che San Raffaele l'arcangelo rega fra le mani un pesce e quindi loro e baciare il pesce che è nelle mani di San Raffaele è considerato diciamo ottimo auspicio per cercare marito invece San Pasquale Bailone protegge tutte le donne in generale protettore delle donne ma hanno mille numerite Bellille e Piccerille e Cherenare Indovurzil cioè lo vogliono bello Piccerille eppure con i soldi insomma ecco questo per farti capire che San Gennaro che ha fatto ha delegato è stato geniale Napoli ha 52 coprotettori il numero più alto d'Italia la seconda città come numero di protettori in Italia è Venezia che ce n'ha solo 25 cioè ne abbiamo messo meno della metà cioè meno della metà e San Marco a Venezia a differenza di San Gennaro non dè neanche un protettore che ne so per l'acqua alta no sarà da preisse direttamente poi San Gennaro è stato geniale Sant'Anna e Santa Patrizia gravidanza e parto Santa Maria Francesca perché vuole avere un bambino insomma signori miei ha saputo delle cose è napoletane professore ma secondo lei c'è effettivamente qualcuno che venera che venera e che crede proprio in questa questa specie di in questa sottocultura napoletana perché è una sottocultura non è quella popolare nel senso non è quella più nota vabbè facciamo salvo diciamo i cattolici ortodossi diciamo all'aspetto sì non è che tu guarda Napoli ti dicevo prima no è una città di misteri se io ti dicessi che i napoletani per un paio di secoli hanno adottato dei teschi anonimi dei crani di appestati del seicento che venivano ammassati nelle cave di tuffo che abbiamo qua vicino dove siamo noi o cimiterio e fontanella dove c'erano vari milioni di capuzzelle provenienti da tutte le varie epidemie e pestilenze della città i colera ma soprattutto la peste principale quella del 1656 i napoletani si prendevano cura adottare vuol dire prendersi cura ripulirla ripulire le orbite questa cosa ti può sembrare tra le altre cose i napoletani incorporavano metaforicamente nella capuzzella le anime del purgatorio quindi occupandomi della capuzzella io indirettamente mi prendevo cura di un'anima purgante le anime del purgatorio tra le altre cose con un po' di cazzimma non so se gli ascoltatori conoscono sto termine cazzimma vabbè lo parlavo tutti sa perché perché l'anima del purgatorio vi siete mai chiesti i napoletani sono guarda si occupano sempre frisca l'anima operatoria frisca l'anima tutti ma non avrebbero più dignità perdonate chi li che stanno in paradiso no se stanno in paradiso hanno fatto cose e lì c'è la grande cazzimma del napoletano perché il napoletano fa sto ragionamento dice ma io che mi occupo fa chi li che sta in paradiso chi li ormai ha risolto tutti i problemi pensi giusto a me chi li che sta all'inferno ormai sta nel fuoco e non c'è niente da fare qual è l'anima invece che come devo dire è un po' più ricattabile tu vuoi che io ti faccia le messe i rifreschi ti richiede preghiere per farti ascendere al paradiso bene io lo faccio ma tu hai fatto qualcosa per me quindi c'è questo rapporto più rivo ed ecco perché l'anima del purgatorio è quella che viene metaforicamente incorporata nella capuzella quando ti parlo di questo processo di adozione di teschi appestati del seicento ma non teschi quelli vecchi finti che si comprono su un teschio vero un essere umano tu puoi pensare ma se sarà una pratica medievale del 1200 massimo diciamo del periodo vicereale o 600 no 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 mia nonna mia mamma che ho appena lasciato 20 minuti fa si prendeva cura di una capuzella al cimitero delle fontanelle veramente quindi non è una pratica che puoi pensare capito come devo dire ma per questo è molto difficile abbastanza recente abbastanza recente tutto si è chiuso negli anni 70 del secolo scorso quindi una quarantina di anni fa e si chiuse perché il cardinale di Napoli Corrado Ursi insomma aveva la chiesa aveva tollerato ma mal sopportato questa vicenda la chiesa dice io ti devo dire chi sono i santi da adorare non è che tu decidi tu cazzo usando mi primo seconda cosa diciamo poi si verificò anche una sorta di mercimonio cioè c'era un commercio di capuzelle di teschi o buono una capuzella garantita era un vicende mila lire capito questa cosa la chiesa non la sopporto più cosa fece murò definitivamente le fontanelle e tutti gli altri luoghi in cui avveniva questa sorta di processo di adozione delle capuzelle la tua domanda è qual è il fuoco che fa diventare il napoletano napoletana in sud America c'è la cosa più vicina c'è il dias de los muertos si la cosa vicina a quello che avviene che poi è molto il rispetto dei morti ma quello però è una cosa che è limitata come Halloween in America che è come il periodo dei morti a Napoli il processo esatto tu hai ragione in generale tutto questo conflore che abbiamo qui secondo te sono le varie etnie che ci hanno influenzato nella storia ci hanno visto le vorise i carni guarda ti dico questo noi siamo praticamente sempre stati dominati in 2700 anni abbiamo avuto brevissimi periodi in cui siamo stati un popolo pacifico d'altronde il regno di Napoli era il mursetiello saporito al centro del Mediterraneo quindi tutti ambivano diciamo a questo regno e quindi siamo stati prima greci poi romani poi abbiamo avuto le influenze arabe poi il periodo ducale poi se andiamo al piazza per il Biscito troviamo quegli otto re che sono i capostipiti delle dinastie dell'ultimo millennio normanni svevi angioine ragonesi francesi spagnoli cioè i normanni gente che veniva dalla Svezia a Norvegia ma ti sei mai chiesto perché hanno attraversato tutta l'Europa per provare a governare la Sicilia perché poi la Sicilia soprattutto è normale perché noi avevamo una posizione strategica geograficamente parlando il porto di Napoli era importantissimo e poi arrivano gli aragonesi gli spagnoli poi arrivano gli svevi e poi arrivano voglio dire gli angioini i francesi tutti volevano questo regno e però noi abbiamo avuto questa è una battuta che ha fatto Alessandro Siani che io adoro che poi è un genio lui dice in 3.000 anni di storia noi siamo sempre stati un popolo pacifico abbiamo accolto tutti questi invasori senza combattere abbiamo avuto una prima rivoluzione napoletana in cui siamo stati autonomi 1641 quella di Masaniello sì ma che poi alla fine durò 16 giorni poi abbiamo avuto una seconda rivoluzione nel 1799 quella di Eleonora Pimentel Fonseca non quella degli intellettuali sì ma che le durai tutte cose due mesi e mesi poi abbiamo avuto le quattro giornate di Napoli diciamo in 3.000 anni di storia tutte cose abbiamo combattuto tre mesi siamo sempre stati un popolo però abbiamo trasformato questo problema in una grande opportunità che noi oggi che ne so disponiamo di una lingua che è greca latina araba sveva normanna angioina aragonese di una cucina che ha tutte queste influenze ci abbiamo preso il meglio di ognuno di questi però se tu parlavi del fuoco che noi teniamo dentro perché qui a Napoli come devo dire tutto diventa eccessivo tutto anche nel numero di coprotettori voglio dire tutto anche nella lingua tutto è tanto ma guarda io non voglio fare troppo il filosofo ma sicuramente la presenza dello sterminato del Vesevo diciamo del Vesuvio qua vicino che in qualche modo ci ammonisce inconsciamente come a dire guardate che rimane può fornire tutte cose cioè psicologicamente parlando avere lì un pericolo costante la verità è che noi non è che noi Napoletani subiamo la presenza del Vesuvio anche perché tutte le generazioni oggi viventi nessuno ne abbiamo costruito un'immagine tra l'altro nessuno ha mai visto il Vesuvio fumare l'ultima eruzione fu nel 44 quindi quanti sono ancora vivi quelli che hanno visto l'eruzione nel 44 quindi ecco c'è un problema di perdere della memoria storica infatti abbiamo continuato a costruire di nuovo esattamente nei luoghi in cui il 44 colopo ma questo è perché la memoria storica dei terremoti e delle eruzioni si perde ma potrei dire questo in lingua napoletana per esempio sai tutto va fatto ora a Napoli diciamo continuamente tutto l'ha stato è perduto a mafamò non è che possiamo aspettare mia mamma era mi insegnava sempre che tu devi realizzare mole poi magari si rifanno ma mai rinviare tutto l'ha stato è perduto è una frase geniale in lingua napoletana ma non voglio fare un professore che sennò si staccano e se ne vanno tutti quanti per esempio avete mai fatto caso noi sì siamo eccessivi in tutto siamo fam samurenni fam samurenni è sempre estremo tutti siamo stancati ma l'ho sto sono mustang mort tutto tutto estremo però poi in lingua napoletana per esempio non abbiamo il superlativo almeno della formatissimo non ce l'abbiamo noi per ottenere il superlativo che facciamo raddoppiamo due volte l'attributo due volte l'aggettivo chi le è sick sick lungo lungo avate avate brut brut e fate le giri le giri diceva massimo trovisi sulla bicicletta con le loro ma voi siete troppo giovani per ricordare tutto ciò però ricomincio da tre insomma vabbè storia comunque è storia quindi e poi raddoppiamo anche i sostantivi chi le se ne aiuto tink se ne aiuto muro muro tink è nuova per me non l'avevo mai sentita oppure raddoppiamo anche gli avverbi chi le è arrivato ngann ngann pont a pont all'urdum all'urdum ecco una lingua quindi tutta particolare in lingua napoletana per esempio noi non abbiamo o non usiamo quasi mai il tempo futuro domani andrò dal barbiere non si può tradurre in napoletano usiamo sempre il presente io rimano rimano vaca dal barbiere in estate andrò al mare a stagione vaca che sta stagione vaca o mare e questo probabilmente ma se vogliamo dare una interpretazione filosofica e tutte queste bibliche calamità che ci hanno convinto casa da famò tutto adesso al presente bisogna il futuro non esiste e poi in lingua napoletana visto da tutti questi giovani c'è una regista giovanissima una vi siete mai chiesti in lingua napoletana qualcuno in napoletana ti ha mai detto ti amo in napoletana non esiste il ti amo non si usa in realtà non si traduce in napoletano ma noi il ti amo in napoletano diventa ti voglio bene ma esiste anche in italiano ti voglio bene e non esiste il ti odio in napoletano ma esiste ti schifo la capo vera insomma quindi è una lingua davvero tutta particolare e l'inesistenza del futuro per me in qualche modo coincide con quello che tu dicevi sì noi non no nel tempo futuro nel senso grammaticale nella grammatica napoletana in qualche modo il tempo futuro non c'è per noi esiste il tempo presente tutto è adesso eh no per me di essere firmati perché sei parlato troppo assieme cioè se vuoi parlare devi metterti là no io poi che cosa faccio spesso ogni volta che parliamo di Napoli io trovo sempre delle somiglianze perché sono molto appassionato alla cultura orientale no molte somiglianze al Giappone in Giappone ti amo non si dice cioè il la concezione di amore ti amo amore pure lì ti voglio bene ma c'è un'unica parola anzi un unico modo di dire ti amo ti voglio bene che si chiama la parola la stessa cosa un pochino come il napoletano schi schifo più o meno succhi bellissimo ci trovo molte somiglianze come ne parlammo adesso per esempio con i maestri di Napolimania Vincenzo il padre vennerò qui a parlare di Kagoshima per esempio del gemellaggio che abbiamo con la città giapponesi la lingua napoletana in questo è veramente straordinaria secondo Luciano De Crescenzo tu voglio bene addirittura è più omnicomprensivo di ti amo cioè ti amo e ti voglio bene vuol dire ti amo ma soprattutto voglio il tuo bene cioè addirittura ti amo è riduttivo secondo De Crescenzo poi c'è una battuta bellissima che dice non promettere mai ti amerò per tutta la vita perché insomma oggi la vita media si è allungata e quindi non pigliamo la responsabilità allora prima di iniziare io dissi che mi piacciono tantissimo miti e leggende io vorrei sapere quale è la sua preferita perché per esempio la mia è molto banalmente l'uovo cioè il castello dell'uovo l'uovo all'interno del castello che se si dovesse frantumare se ne cadere crollerebbe Napoli cioè chissà questa cosa come balenata nella testa delle persone che l'hanno che l'hanno scritta pensata bellissimo per me per me diciamo ci sono due due personaggi di riferimento insomma che hanno sempre fatto parte del mio vissuto personale una è sicuramente la sirena partenope la sirena partenope rimane un elemento diciamo ispirativo di di artisti scrittori poeti scultori pensa la sirena partenope quindi come devo dire quando i gresci arrivano sull'isoletta di Megaride affrontare dove sta il castello dell'uovo dove stava l'uovo esatto loro danno al primo insediamento abitativo in quel luogo il nome partenope perché la leggenda voleva che lì ci fosse la tomba della sirena partenope la quale aveva preso un palo ecco quindi con Ulisse non era riuscita a sedurre il bello Ulisse quindi le sirene poi erano tre l'Igeia partenope l'eucosia così dice il mito la leggenda loro non riescono a sedurre Ulisse e che era di ritorno verso verso Itaca non riescono a farlo avvicinare alla costa deluse si gettono al mare dice il mito e il mare restituisce diciamo pietrificandolo in delle isolette l'isola di Megari dove c'è partenope l'isola di Leucosia a punta l'icosa dove c'è ancora oggi l'isoletta col faro e l'Igeia va giù in Calabria all'isola di Dino a morire quindi in qualche modo l'isola di Dino è in memoria di c'è uno scoglio diciamo della l'Igeia ok ok ci passo spesso perciò ecco ebbene quindi le tre sirene Napoli nasce quindi fondamentalmente da un palo dato che io ho sempre palo in vita mia che sono sempre fortunato con le donne sento come devo dire il palo della serena partenope come è molto vicino al mio vissuto personale l'altro per me è San Gennaro San Gennaro nel senso che voglio dire io devo confessare appunto io non sono particolarmente la mia fede non ho il dono della fede questo ciononostante io considero San Gennaro come qualcosa come devo dire che è addirittura super partenze come devo dire onorato e rispettato da religiosi ma anche da laici cioè io lo considero un mio punto di riferimento San Gennaro era vescovo di Benevento tra le altre cose quindi lui andò ad aiutare il suo amico sossio a Pozzuoli che era sotto le persecuzioni dei cristiani fu catturato fu fatto prigioniero e fu ammazzato a Benevento a Pozzuoli scusa voglio dire però è questa cosa di Benevento la racconto ogni tanto perché ogni tanto è napoletano no considero San Gennaro sì stiamo a sper nel senso che vi ho detto che fra i 52 coprotettori ce ne manca uno quello del calcio Napoli non ci sta anche perché dopo la morte Diego Armando Maradona del 2020 diciamo volevano potrebbe essere lui il problema è che lui però la cura arcivescovile da questo orecchio non ci sente c'ha dei precedenti diciamo quando il Napoli ha vinto il terzo scudetto si stava pensando anche a De Laurenti ma adesso lo schifano tutti un'altra volta quindi diciamo c'è sempre questo combattimento interno e allora che cosa succede che quando il Napoli ha avuto tutti questi problemi quest'anno i napoletani San Gennaro mi ha detto c'ha manato io io dico no aspetta ferma San Gennaro mi ha detto c'ha manato San Gennaro ti ha detto i suoi tifosisti erano Napoli ma non facimmo distrarre a San Gennaro con Napoli anche perché poi racconto questa storia mica è detto che San Gennaro ti fa con Napoli San Gennaro era vescovo di Benevento dove è l'arco di Traiano a Benevento per tradizione ci sta la casa nativa di San Gennaro e allora forse questo lo ricorderete anche voi che siete giovanissimi che nel 2017 il Benevento Carcio arrivò in Serie A allora quell'anno ci fu il primo derby campano Napoli-Benevento allo stadio che allora si chiamava San Paolo ci fu questo derby i beneventani quando vennero a Napoli come devo dire provarono a captare la benevolenza del nostro santo protettore perché era beneventano portava uno striscione geniale che diceva San Gennaro riguardo da chi si figli era geniale però dato che noi eravamo letani in fatto di striscione di calcio abbiamo nulla da imparare alla partita di ritorno replicamo in maniera ancora più geniale perché scrivemo uno striscione che diceva San Gennaro e figli sui chiese cresce ah bella questa cosa che tra l'altro è pura filosofia sì sì tanta filosofia esatto perché il figlio è di chi lo fa lo trovo molto contraddittorio che lei ecco non è un uomo di fede però è appassionato a Napoli Napoli è 80% fede chiaramente la fede è una storia tutta personale io teniamo mio padre che addirittura era diacono quindi figurati e quindi a volte poi nella vita esistono io passo molto e più ore di qualunque cattolico nelle chiese napoletane infatti sì la nostra cultura si basa molto sulla fede ho un problema personale che poi tra l'altro quando parlavamo di sirene ecco io non so poi cosa succede storicamente all'essere umano alla mente umana la sirena noi la vediamo come metà donna metà pesce quando in realtà è metà donna metà uccello c'è proprio tutta una cosa però vedi se dobbiamo essere volgari io me ne vado e lo dico subito pesce uccello cosa è successo nella storia dell'essere umano miti nelle leggende nella scrittura che Omero credo che è stato il primo che le ha dipinte che le ha scritte io volevo segnalarti una cosa che in fondo pesce e uccello sono due facce della stessa medaglia nel senso che che tu lo sai che nel regno di Napoli diceva Fordinando II il mio regno è circondato dall'acqua e certo abbiamo detto che il regno di Napoli sta in mezzo all'acqua c'ha tre lati di acqua salata diceva lui il regno Ione Adriatico e poi c'ha un lato di acqua benedetta c'è lo stato Vaticano quindi praticamente il regno di Napoli era circondato dall'acqua però questo giustifica il fatto che nel regno di Napoli tutte le locuzioni vengono dal mare un uomo brutto brutto è uno scuorfano la femmina brutta è uno purpa tutta roba di mare la femmina secca è secca come una lice è un uomo innocente è uno pesce tiene le cannucce un uomo noioso è uno pesce a brore è uno pesce scuccio è uno pesce a zuppa è uno pesce è vero abbiamo tante è uno pesce pigliate ma soprattutto col termine pesce i napoletani indicano soprattutto con decenza parlando poi c'è una signora presente ok indicano il membro maschile che è napoletano diventa o pesce ignorando che a Milano e a Torino mica lo chiamano pesce lì lo chiamano uccello guarda tutta come devo dire l'incomunicabilità fra nord e sud è tutta quanto sintetizzabile a 360 poi il coso si chiama pesce sta in acqua e nuota a Milano e a Torino o cosa sta in aria e vuole si chiama uccello ecco è tutto qui come devo dire la questione l'incomunicabilità i due popoli non si potevano mai professore forse perché l'essere umano e l'animo umano è temprato da ciò che lo circonda noi siamo circondati comunque dal mare e al Milano e lì la pratica venatoria naturalmente però questa è una spiegazione troppo seria troppo dosta io volevo invece giocare sul fatto che i due popoli non si capisce perché a noi è pesce e lei è uccello ma come si potevano capire come la sta vivendo lei ecco professore di napoletanità in Italia e nel mondo come lo sta vivendo lei questa moda che c'è di Napoli adesso in tutto lo stivale no? che adesso tutti parlano la nostra lingua tutti sono appassionati dal napoletano guarda vuoi che mi apra già stasera mi sono aperto troppo diciamo di solito evito di parlare delle mie convinzioni religiose stasera l'ho detto diciamo ho un diciamo un un problema personale siamo reali quasi siamo trasparenti guarda è chiaro è chiaro per carità un po' di orgoglio siamo felici che Napoli in questo momento come devo dire è un brand tutti vogliono venire a Napoli è un brand è diventato è un brand Napoli è diventata come devo dire la meta preferita da tutti gli europei d'accordo d'accordo questo ha portato a una proliferazione per esempio di BNB ma figuro non lo metto contro tutti ci hanno fatto una legge però se non sbaglio adesso li hanno limitati giusto una onda del genere però questo ha portato sì che ha fatto sì che se oggi due giovani a Napoli si possono sposare non trovano più una casa e questo è un problema mio molto attuale se due studenti arrivano dalla Calabria vogliono studenare non troveranno mai una casa i prezzi sono alle stelle perché chiunque ha un buco se una televisione vuole realizzare una cosa del genere un appartamento se non lo tenete già da prima non lo troverai mai più tutto come di più alle stelle e il tema è diventato al posto al sole addirittura al posto al sole c'è un tema in cui si dice che vogliono cacciare via degli inquilini per farvi investimenti ci sono aziende investitori che vengono da fuori per comprare rimettere a posto e fare a me questa cosa francamente a me il B&B se il napoletano ha due camere in più e ospita due turisti che vengono fuori è una cosa fantastica e questo è lo spirito di Airbnb quando nacque sai che Airbnb nacque perché Air ci ha mai pensato perché si c'era in America la moda dei materassi ad aria quindi si chiama Airbnb che io faccio il B&B su un materasso che si confiava quindi per quello che arrivava per l'ospite la cosa poi alla fine è sfuggita di mano secondo me no è vero questo ci sto pensato sta degenerando perché adesso sta diventando appunto business cioè adesso ce ne stiamo approfittando se ne stanno approfittando per far non è più però come dite già non mi mettere contro tutti i B&B napoletani perché c'è da dire anche un'altra cosa l'aspetto positivo questi B&B hanno rivalutato quartieri voglio citare i quartieri spagnoli a sanità che prima magari erano veramente un po' terra di nessuno oggi c'è un sacco di gente che viene occupata in queste nuove tipologie di lavoro in qualche modo quindi un indotto del turismo sarebbe meglio se come devo dire se i singoli proprietari gestiscono le proprie B&B sarebbe molto più distribuita la ricchezza quello che veramente è una cosa che non gradisco è quando diventa un investimento tu compri perché devi investire e guadagnare sul brand Napoli infatti ora ho notato che molte nuove costruzioni le stanno facendo limitrofe Chiaiano Marano Giuliano posti del genere secondo me il napoletano ecco adesso se io volessi fittare o acquistare un appartamento con la mia fidanzata io no è che o ho un importante somma di denaro e quindi decido di fare l'acquisto e comunque mi potrei permettere un buco quasi invivibile con una cifra più che decente oppure ecco ti sposti quindi secondo me avremo in un futuro tra una decina ventina d'anni vedremo che i giovani d'oggi nati centro Napoli si sono tutti spostati secondo me appunto nelle periferie perché lì dove stanno facendo le nuove costruzioni e questo non va bene perché questo visto che stai diventando serio vogliamo essere seri assolutamente noi abbiamo già assistito a Venezia a Firenze i centri storici non esistono più il centro storico di Venezia ormai è solo un mega B&B è vero ci sono palazzi a Napoli ormai dove ci sono solo B&B e questa cosa già era venuta a Venezia a Firenze qual è il rovescio della medaglia che a Napoli grazie invece quando vivevano i napoletani nel centro storico di Napoli accadeva che questi potevano sostenere una serie di attività il fornaio la lavanderia il riparatore di scarpe gli artigiani i quali però con l'espulsione dei napoletani dal centro storico che mica il turista si va a riparare a scarpa naturalmente non ci va mica il turista va come devo dire sostiene il pane fresco ogni mattina nel centro storico una serie di attività prima testardamente rimanevano ancorate al centro storico perché c'era un mercato locale che le poteva sostenere con l'espulsione dei napoletani inevitabilmente sta nascendo solo il pizzerì sì e la cosa bella è che invece sta gente veniva a Napoli proprio perché voleva vedere l'artigiano il prodotto locale la scarpa voleva vedere il sarto che faceva l'abito su misura c'era un sarto per ogni strada oggi di sarti a Napoli non stanno più no vabbè non solo a Napoli adesso lei ha comunque citato dei mestieri che adesso stanno sparendo piano piano anche per altri però per esempio io scrivo tanto su queste piccole attività artigianali che hanno bisogno di un mercato locale per sopravvivere altrimenti faremo la fine del centro storico di Firenze del centro storico di Venezia che bisogna pagare il biglietto per poter entrare le stelle e soprattutto poi non c'è più la popolazione locale però non siamo troppo talurni perché poi l'aspetto positivo ripeto è che un mare di gente che magari prima viveva ai margini o addirittura al di fuori della legge oggi sta provando esatto a vivere in un ambito di legalità e questa è una cosa si c'è da dire che comunque tutto questo turismo sta aiutando tantissimo comunque il napoletano perché porta tanta economia e vabbè siamo diventati talurni allora professore un'altra mia curiosità lei adesso sta aggirato anche per portare nei teatri per portare questa sua cultura che soddisfazione ma lei ha tutta questa passione cioè sono tutte cose che ha imparato letto da autodidatta oppure come ha creato questa sua biblioteca mentale questa sua papilonia tutto da autodidatta prima era una lettura sparsa quando per me era solo un gioco poi chiaramente è diventata sistematica cioè oggi leggo pure i classici mi rileggo di umai i borboni in apola 3.000 pagine e poi cercando nelle righe tutta una serie di storie divertenti perché poi alla fine alla fine è là che devi cercare perché poi i libri chi le so e chi le so la storia in apola che l'è che l'è io per canale 21 per il quale lavoro e faccio delle pillole domenicali che durano cinque minuti per fare un video di cinque minuti ovviamente cosa accade ogni domenica esce il video nuovo ne ho fatti 140 in due anni e uno pensa una città ormai c'è sempre di nuovo ancora altrettanti già progettati questo è in questo senso è una storia infinita cioè napoli è una città a risorse infinite e questa è una cosa bellissima non finisce mai c'è bisogno selezionare le cose particolari divertenti perché altrimenti io gioco molto con la lingua napoletana gioco molto sul fatto per esempio che anche le parolacce hanno delle origini semantiche etimologiche uniche faccio un esempio pochi giorni fa ero a Via Toledo stavo girando un video lo passano questi scugnizi napoletani verate le gamere che cosa non ha dato la fastidia mentre eramo quindi un video di quattro minuti chi le sa avvicina e fa l'ota a me a me ha fatto l'ota ok bravo grazie grazie aveva distrutto tutto il lavoro quindi cancellamma tutte cose ricominciamo da capo però poi ci penso guarda Killebrite l'ota che è una parola solenne perché l'ota è dal latino lutum che in latino significava fango fanghiglia a questo punto però mi giro e dico ne l'utamma che anche questo è dal latino letamen che nell'antica Roma significava sterco escremento vedete io e lui abbiamo probabilmente parlato in latino l'ota e l'utamma quindi vedi questa lingua quanto è solenne anche nelle male parole come devo dire ha delle origini straordinarie è asfruttato un contenuto bellissimo avrei potuto cercare altre parole latine e invece il gioco è chiaramente l'è capitata quella è capitata il vestito quello l'ha portato esatto su un motorino senza casco e praticamente professore che cosa volevo sapere da lei sono troppo cattivo vabbè comunque io sono curioso perché non le chiederò l'età però alla sua età come mai si è deciso di esporsi così sui social cosa bravo ma mica l'ho deciso io aspetta chissà tutto in equivoco perché praticamente io oggi sono 60 anni ho cominciato questa vicenda da 58 quindi il vero pericolo dei social infatti come dice Paolo Cagliazzo non so i guaglioni che i social li sanno ma sono i vecchi che fanno così ecco il vero pericolo tu hai visto mai i commenti che fanno che fanno la gente ma guardano i fatti tutti quanti mentre i ragazzi ne fanno un utilizzo spero insomma un po' diverso in realtà non sono social ok io non c'ho né l'account tiktok non c'ho instagram c'ho mia figlia ma facette facebook all'epoca poi paziano e ren io cosa faccio mi limito a pubblicare ogni domenica il video che faccio per canale 21 allora i grandi guru del web no ma scusa ma tu sei 5 minuti guarda è un'eternità un'eternità parlano tutti così confermo parlano tutti così è un'eternità no sei completamente fuori target beh ogni video mio fa che le 7 800.000 un milione visualizzazione e sono 140 quindi ho detto scusa ma tu come pu la verità è un'altra tu su tiktok puoi fare un video 15 secondi che zompi e ti spogli ne ho visto ma perché non tiene niente a ricere alla lunga però chi è che sopravvive sul web sopravvive chi porta dei contenuti cioè tu puffa puff zomp ok hai già visto una volta bello bellissimo eccoci qua eccoci qua se alla lunga quindi quel video che ha dei contenuti rimane può essere 5 minuti completamente fuori target beh mi sono accorto alla fine ah come regola mi sono dato nessuno pubblica sulle mie pagine perché era diventato un inferno io non rispondo a nessuno che oltre al milione di visualizzazioni ci sono quasi 3, 5, 7, 10 mila commenti ora etichetta web vorrebbe che io mi vei che si commenti però immaginate cosa significherebbe guardare vuol dire tu non fai nient'ato in da vita considera che io instagram e tiktok non ce l'ho quindi solo se io volessi replicare su facebook e a volte la gente mi dice papà guarda uno ti ha chiesto dove trovo i libri mi servono 10 libri e uno dice mannacce 10 libri certo è una bella vendita però se la regola deve esserci io non rispondo a nessuno perché altrimenti diventa la vita diventa veramente un inferno e e l'altra cosa di soddisfazione che mi ha dato mi ha detto mia figlia che ha guardato l'altro giorno e c'ho 130.000 followers c'è gente che aiuto su facebook evidentemente tutti boomers perché sai i millenials stanno andando a parte mi hanno spiegato oh ma 130.000 persone cioè è un numero capito e io non ho interagito mai con nessuna quindi immagina se avessi promosso la mia pagina le mie immagini questo vuol dire una cosa che sto imparando può essere che sto dicendo una scimità no le dico la verità è divertente per noi che mastichiamo questo nel senso lo facciamo è bello vedere come una persona di un'altra generazione si approccia a ciò detto questo a me servirebbe uno che si occupa delle mie pagine web ecco qua se voi fate questo di vestire guardate io vi affido tutto decidiamo il quantum perché vi dico questo cioè è chiaro che poi c'è il secondo step a che servono 130.000 followers che è una cosa che non ho capito ancora bene divulgazione esatto a me servono scusate la parola è brutta servono perché adesso sto facendo come devo dire gli spettacoli e fino a ora faccio solo sold out roba roba quindi vuol dire che la cultura e il contenuto adesso sta diventando di nuovo interessante che il balletto tutta nuda su tiktok forse non funziona più non funziona più cioè alla fine c'è gente che oggi quindi il mio tiktok scusami facebook per me è diventato anche un repository dove io ho un magazzino di tutti i 140 video che altrimenti avrei perso perché altro problema diciamo del web è la permanenza di una cosa perché tutto sparisce adesso tutto resta per me quindi è utile però ci vorrebbe appunto un'interazione e ne parliamo dopo a telecamera spente chi stanno a chiedere le sorde che viaggi capito perché mi hanno chiamato no professore bellissimo è bello perché lei da quello che si capisce da questa chiacchiera che lei lo fa veramente proprio per amore di una sua passione ah certo meno male che allora diciamo che economicamente non l'ho fatto per motivi di denaro una stessa di chiroangela la pretata esatto il problema è che oggi ugualmente però per esempio io chiedo se c'è uno spettacolo c'è un biglietto ma questo è per dare dignità come devo dire al lavoro e anche all'arte sono stato a Pagani domenica scorsa non sono mai stato in vita mia insomma così e c'è un teatro da 550 posti sold out completo cioè 550 persone Pagani hanno deciso di venire a fare la media corella pagando un biglietto da 12-15 euro sabato e domenica scorsa era a Cercola la mia tournée insomma come vedete New York Mumbai e poi domenica prossima sarò a Sessaurunca e continua una tournée però la cosa bella sarò per son in cartellone in abbonamento al teatro Troisi a fine aprile questo è divertente che stavo a dire perché ieri ho visto tutto il cartellone del Troisi per carità come devo dire sono artisti tutti di livello altissimo non mi ricordo comici straordinari cabarettisti bravissimi in tutti quei 12 cerchi che ho visto mi ha fatto piacere che l'unica faccia veramente nuova so io che sono completamente fuori registro cioè che ci azzecco il fatto che mi abbiano scoperto che mi abbiano chiesto di stare in cartellone per me è a soddisfazione dato che si vive di soddisfazione poi i soldi li lascia nel tempo che trovano professore io la ringrazio per l'aver raccontato eh no è certo vuole raccontare l'ultima cosa proprio bella emozionante su Napoli l'ultima storia emozionante volgare qua possiamo dire quello che vuole no 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 anche volgarità qua diciamo no mi piace una cosa divertente facciamo così una cosa divertente sì prima ho detto che i napoletani non hanno nulla da imparare il fatto di essere scione i calcisti sapete perché perché negli anni 80 e voi non c'eravate siete tutti troppo giovani i napoletani fece uno strescione che ancora oggi è considerato di calcio che è considerato come devo dire la cassazione la parola definitiva in ambito di calcio lo sfoderano negli anni 80 contro il Verona tutto cominciava nell'83 il Verona un giocatore brasiliano dirseu fu venduto dal Verona al Napoli uh ha cominciato a fare tifoserie dirseu non sei più straniero Napoli ti ha colto nel continente nero ha cominciato Vesuvio lavali col fuoco vi ricordate quell'epoca non ce l'avate Napoli colera benvenuti in Italia è abbastanza odierna è abbastanza attuale a questo punto a questo punto a questo punto i napoletani basta si concentrano si concentrano ed elaborano lo striscione contro la tifuseria scaligera che ancora oggi è considerata la parola definitiva due parole scrisse i napoletani giulietta è una zoccola stop e io concluderei così con questa passiva del professore professore grazie per essere passato l'espresso podcast grazie a voi grazie a voi ragazzi ora chiudiamo le telecamere e facciamo un accordo di come si dice questo lavoro proprio di chi cura le pagine social media manager ok è una nuova nuova mestiere smm non c'è più il maniscalco arrivederci grazie professore grazie a tutti